Fa ancora male, vero? Quel dolore lombare è insopportabile. Non riesce a piegarti, non riesce ad alzarti. È una sofferenza costante. La serenità di cui godevi è svanita al punto che avresti quasi voglia di metterti a urlare. Ma non sei l'unico. Sei uno dei milioni di persone di tutte le età che soffrono di dolori strazianti alla zona lombare. Ma finalmente puoi alzarti e tornare a sorridere perché abbiamo la soluzione per un sollievo rapido, semplice ed efficace. InstaLife è un infallibile sistema di agopressione che aiuta istantaneamente ad alleviare il fastidio nella zona lombare, lungo tutto il nervo sciatico, fino ai glutei e alla parte inferiore delle gambe. Il cuscinetto di InstaLife comprime delicatamente il punto di agopressione al centro del muscolo del polpaccio, intercettando il dolore prima che si propaghi alle parti superiori e inferiori del corpo. InstaLife sarà la tua ancora di salvezza in tantissimi momenti della giornata. Dimenticherai quel dolore arancinante e ti sentirai come nuovo. Se hai mal di schiena al lavoro puoi usare InstaLife. Se senti dolore quando fai ginnastica, InstaLife è lì a soccorrerti. Di addio al mal di schiena e potrai giocare tranquillamente con i bambini. Niente più notti insonni a rigirarsi nel letto. Riposerai come si deve grazie a InstaLife. E naturalmente sotto i vestiti nessuno si accorgerà che lo indossi. InstaLife sarà il tuo miglior investimento. Una visita dal chiropratico può costarti anche 200 euro. E di certo una sola non è sufficiente. Aggiungici medicine, lozioni, cuscine riscaldanti e creme e arrivi a spenderne altre centinaia ogni mese. Approfitta di questa offerta di InstaLife. Non ci sono paragoni. Ti basta poco per tornare a sorridere di gioia e dimenticare quel dolore straziante. Ti basta InstaLife.